Torniamo a parlare della vicenda del comandante dei carabinieri di Lanusei aggredito nei giorni scorsi da due ragazzi. Stamattina prefetto, questore e comandanti provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza sono andati a Lanusei per esprimergli vicinanza. E stasera a Delini ci sarà un'assemblea pubblica con il sindaco. Francesco Riccardi. Questi gesti squallidi e meschini sono dei veri e propri attentati alle istituzioni. E quindi come tali vanno condannati e contrastati con assoluta fermezza. Prefetto e questore di Nuoro, assieme con i comandanti provinciali di carabinieri e Guardia di Finanza, è in visita alla caserma dell'arma Lanusei per esprimere solidarietà al comandante Giuseppe Delisa, aggredito lo scorso 16 giugno a Elini. Presenti anche i sindaci di Lanusei ed Elini. Un episodio nato per caso, visti alcuni veicoli parcheggiati in curva vicino a un esercizio affollato e il capitano fuori servizio aveva invitato gli avventori a spostarli. In due avevano poi raggiunto Delisa che viaggiava ai scooter per speronarlo e attaccarlo a calci e pugni. In arresto un 39enne e un 22enne per violenza privata pluriaggravata, lesione pluriaggravata e danneggiamento. Atti così, secondo il prefetto, non rappresentano la vicinanza delle comunità alle istituzioni. Ho notato sempre in questi pochi mesi un grande senso di attaccamento alle istituzioni e alle forze di pulizia, in particolar modo ai carabinieri che sono presenti dappertutto con grande professionalità. Quindi non è un problema assolutamente di mentalità. È un problema che dobbiamo ovviamente contrastare con fermezza tutto quello che avviene in tal senso. Questa sera alle 18.30 nella sala polifunzionale di Elini un consiglio comunale aperto e convocato d'urgenza.